in questo video andiamo a cercare di capire che cosa sia la dissonanza cognitiva e partiamo subito dal presupposto che gli atteggiamenti si possono formare anche attraverso l'osservazione del proprio comportamento in effetti secondo la teoria dell'auto percezione elaborata da ben nel 1965 quando non abbiamo un atteggiamento preesistente o esso molto debole su un tema particolare possiamo inferire gli atteggiamenti dall'osservazione del nostro comportamento così mentre esistono molte ricerche che analizzano se dagli atteggiamenti sia possibile prevedere il comportamento in alcuni casi la direzione causale si inverte gli atteggiamenti possono derivare proprio dall'osservazione del proprio comportamento in effetti se ci pensiamo il processo di attribuire gli atteggiamenti di qualcuno all'osservazione del proprio comportamento è però probabile solo quando vi è inizialmente un atteggiamento molto debole connesso a un particolare oggetto di tale atteggiamento tuttavia però in certe condizioni anche gli atteggiamenti esistenti possono cambiare in seguito all'osservazione del proprio comportamento e ciò avviene in particolare quando il comportamento risulta essere chiaramente contrario a una convinzione sostenuta posseduta e vediamo quindi che secondo la teoria della dissonanza cognitiva elaborata da Festinger nel 1957 se un determinato comportamento contraddice gli atteggiamenti esistenti si genera nella persona un senso di disagio in altre parole le persone sperimentano un senso di disagio quando attuano un'azione che risulta essere incoerente rispetto ai propri atteggiamenti per esempio una persona che ama gli animali si sentirà molto turbata se andrà a investire un porco spino questa teoria tra l'altro sembra essere fondata sulla motivazione anche a evitare i tipi di dissonanza o di discrepanza secondo Festinger infatti quando si agisce in modo incoerente con i propri atteggiamenti questa consapevolezza genera uno squilibrio interiore cioè una dissonanza analogamente a Heider che nel 1958 aveva definito che gli individui preferiscono la coerenza e la stabilità Festinger suggerisce che le persone sono indotte a cercare proprio di risolvere questo squilibrio interiore questa dissonanza e se quindi in tal senso le persone vanno a cercare vanno a trovare dei modi per spiegare la dissonanza e poi ricorrono ai mezzi che hanno a disposizione per poterla anche in qualche modo risolverla e i soli mezzi che hanno a disposizione generalmente sono quelli di andare a mutare il loro atteggiamento in modo da farlo coincidere con il comportamento attuato quindi vediamo come la teoria della dissonanza cognitiva sostiene come i comportamenti innanzitutto determinano gli atteggiamenti ma a differenza della teoria dell'autopercezione di BEM succede che un atteggiamento preesistente debole non è un prerequisito per l'effetto nel senso che la dissonanza emerge solo se vi è un atteggiamento precedente piuttosto forte e in alternativa non si avvertirà una discrepanza e nessun forte sentimento di disagio tutto questo è stato illustrato dall'esperimento di Festinger e Kersmith elaborato nel 1959 i quali proprio hanno dimostrato le condizioni nelle quali la dissonanza cognitiva determina un cambiamento degli atteggiamenti nell'esperimento nello specifico i partecipanti dovevano portare a termine due compiti noiosi ovvero svuotare e riempire un vassoio con rocchetti di filo e successivamente rigirare a ripetizione 48 mollette di legno su un ripiano e dopo aver seguito l'esperimento anzi l'esecuzione per un'ora lo sperimentatore spiegava loro che lo studio riguardava gli effetti della conoscenza posseduta sulla percezione di un compito e ai partecipanti veniva poi detto che erano stati assegnati al gruppo di controllo e veniva anche loro riferito che all'altro gruppo era stato detto che il compito era molto piacevole ma non solo perché lo sperimentatore aveva detto a ciascun partecipante che siccome il suo assistente non avrebbe potuto aiutarli con il compito successivo chiedeva quindi al partecipante se fosse stato disponibile e quindi sarebbe stato assegnato alla condizione privilegiata di complice dello sperimentatore al complice dello sperimentatore veniva chiesto di dire al partecipante successivo innanzitutto di aver preso parte all'esperimento ma soprattutto che si trattava di una prova piacevole e divertente e questa è una parte cruciale dell'esperimento perché ai partecipanti si chiedeva di comportarsi in modo antitetico ai loro atteggiamenti ossia andare a dire a qualcuno che il comportamento era piacevole quando invece era chiaramente noioso ci furono tre manipolazioni in questa fase dell'esperimento a alcuni partecipanti fu dato un dollaro per mentire ad altri 20 dollari sempre per mentire mentre ad altri ancora non fu offerto denaro e non venne chiesto di mentire però un'altra cosa importante è che alla fine del compito veniva chiesto ai partecipanti di rivelare il loro atteggiamento reale su quanto pensassero che fosse realmente interessante il compito e si nota come i risultati siano variati significativamente in funzione dell'istruzione a mentire del compenso in denaro perché nello specifico quanti avevano ricevuto 20 dollari avevano affermato che il compito era noioso molto noioso ma che valeva la pena mentire per ricevere 20 dollari invece una cosa molto particolare che quelli che avevano ricevuto un solo dollaro avevano affermato invece che il compito era stato bello e divertente verosimilmente per riequilibrare la dissonanza cognitiva che derivava dal fatto di mentire dicendo proprio che il compito era bello quando non lo era per il misero compenso di un solo dollaro ricapitolando in questo video abbiamo siamo partiti dalla teoria dell'auto percezione di BEM per poi arrivare alla teoria della dissonanza cognitiva di Festinger quindi abbiamo cercato di capire cosa sia la dissonanza cognitiva abbiamo concluso con l'esperimento sui compiti noiosi di Festinger e Karsmith che spiega per l'appunto la dissonanza cognitiva